Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e in questo nuovo video... No, comunque, avevamo fatto quello della bottiglia challenge di mio fratello, siccome è riuscita bene. Spero che vi piaccia. Un'altra cosa che vi ho dimenticato di dirvi è che non era previsto caricarlo sul canale, ma siccome abbiamo fatto abbastanza togate, ho deciso di metterlo sul canale. Spero che vi piaccia, quindi... Buona visione! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Oh my god! 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 Oh my god!